Buongiorno e bentrovati. Oggi venerdì 16 giugno 2017, la nostra consueta rassegna stampa, mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, oggi ne dicono, oggi si ricorda Santa Aureliano Vescovo. Apriamo come sempre con le prime pagine del centro, le prime quattro edizioni, partiamo dall'edizione di Pescara, il titolo principale non poteva che riguardare con tanto di foto e di collage fotografico l'inaugurazione. Vedete di ieri a Pescara del ponte intitolato a Ennio Flaiano, grande folla la partecipazione anche del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio. In alto poi invece l'altro titolo principale riguarda l'acqua perché ogni mese a Pescara viene tagliata l'acqua a 400 morosi, il piano dell'ACA per chi non paga le bollette o non rispetta il piano di rateizzazione. E poi sempre a Pescara arriva il weekend dedicato a Iron Man, oggi si parte, città invasa da 1500 atleti. Le altre notizie che troveremo all'interno del giornale, spoltore, si parla di politica, il neo rieletto sindaco della cittadina del pescarese, Luciano Di Lorito dice voglio un paleventi vicino all'arca. Poi a Pescara la cronaca sindacale protesta dei lavori della Daico sotto gli uffici, sotto la sede della giunta regionale e poi a fondo pagina i grandi marchi abruzzesi che si fanno onore, il caso di dire, nel mondo. Parliamo in questo caso della Saila, la Saila Menta che oggi compie 80 anni a Silvi, la festa della fabbrica di liquirizia famosa nel mondo. Vediamo altri due titoli, in questo caso di carattere nazionale ed internazionale, a Londra le catombe nel grattacielo andato a fuoco, niente speranze per i cento dispersi. E poi invece la politica, scontro sullo Ius Soli, rissa al Senato, la Ministra Fedeli finisce in infermeria. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, siamo a quella relativa a Teramo, prima pagina di Teramo del centro. Il Tar spegne la movida sulla costa, Tortoreto, discoteche e stabilimenti, stessi divieti, niente musica, fino a tarda notte. E poi andiamo a Teramo, crisi a destra e a sinistra, Brucchi non convince, intanto il PD implode. Martinsicuro, ballottaggio, il retroscena, Camaioni, PD e poi calcio invece per quanto riguarda il Teramo, formazione bianco-rossa, che nella serata di ieri, vi abbiamo dato conto nel corso dei TG, dei nostri TG di ieri sera, della ufficializzazione del nuovo allenatore del Teramo. Si tratta di Antonino Asta, poi vedremo anche un servizio. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, pignorata la poltrona del sindaco, Chieti, show in comune della cooperativa che deve riavere dall'ente, 90 mila euro. E poi Ortona, PD in lite dopo la sconfitta, l'ex sindaco d'Ottavio sotto accusa. E poi San Vito, muore in spiaggia la madre del sindaco di Frise, a Casalanguide invece schiacciato dal trattore, che si ribalda un altro ennesimo incidente agricolo nella nostra regione. Chiudiamo per quanto concerne il centro con la prima pagina relativa all'Aquila. Lolli bacchetta il centro-sinistra, l'Aquila e Ballottaggio si infiamma, scontro biondi di Benedetto sul confronto pubblico. E poi Comunali ad Avezzano, giallo dei voti fantasma, scatto nei primi esposti. A Celano, auto dei ladri in panne, coppia nei guai. E poi a Prato la Peligna, giunta di Nino, presenta la sua squadra. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto a burzo del centro. Del Rio inaugura Ponte Flaiano. Vedete nella foto il ministro con il presidente della regione, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che percorrono il ponte in bicicletta. Questo ponte aperto alle auto, ma anche ai pedoni e alle bici. Poi in alto la cronaca, 5 miglia, altra vittima contro un albero. Carpentiere di Barrea muore schiantandosi con l'auto all'alba. E poi vediamo le altre notizie. Partiamo dalla parte alta della pagina. L'avvertenza d'Aico, sale la rabbia, un sit-in blocca il traffico a Pescara in Viale Bovio. Tra l'altro vi dico che più tardi vedremo a tal proposito un servizio. Poi Chieti, debito con la Copp, pignorata la poltrona di Di Primio. Lo sport, il Teramo ufficializza la scelta del nuovo allenatore. Sarà Antonino Asta, ex capitano del Torino. E poi Pescara, saga il presidente Mattoscio, resta sotto inchiesta. E poi Lanciano, il PM Vecchi, trasferita, rischio attentato. Andiamo proprio in basso, invece, nella parte bassa della pagina, per vedere all'Aquila, così come sul centro, verso il ballottaggio. Scontro aperto tra i due candidati, Biondi e Di Benedetto. Chiudiamo con la prima pagina del quotidiano La Città. Partito Democratico a pezzetti. D'Alberto De Santisi e Di Timoteo lasciano in polemica con poltronismo e logica delle correnti. Dunque, come diceva anche ieri, nel servizio la nostra Tania Bonnici-Castelli, vero e proprio terremoto nel PD Teramano. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Poi tra poco torneremo a leggere le pagine all'interno. Possiamo invece andare a vedere, come facciamo in ogni occasione, l'edicola nazionale. Dunque, i quotidiani nazionali, le prime pagine dei giornali che troverete oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Lega, Governo, Rissa al Senato. Urla insulti e spinte sulla legge per lo Ius e Soli. Contusa la Ministra fedele. Poi un titolo importante che riguarda lo sport, perché Donna Rumma, portiere del Milan, verso l'addio, non è stato trovato l'accordo per il contratto. La scelta di Gigi, questo corsivo del Corriere della Sera, sconfitta per tutti. E poi c'è un titolo che riguarda invece il rogo nel grattacielo di Londra. La polizia ora teme cento vittime nel rogo di Londra. La Repubblica, Ius e Soli, la destra scatena il caos. Cittadinanza ai figli nati in Italia da genitori stranieri. Tafferugli dentro il Senato e fuori fedeli. Contusa. E poi speriamo che siano meno di cento morti. Da Londra l'ultimo grazie di gloria alla mamma, questa giovane italiana, che è tra le vittime di questa tragedia accaduta due sere fa nella capitale inglese. Siamo al messaggero, caso migranti, botte al Senato, Ius e Soli arriva a Palazzo Madama. Bagarre della Lega, il ministro fedeli, in infermeria. E poi il rogo di Londra si temono cento morti. Molte vittime non saranno identificate. Andiamo ancora avanti. Il fatto quotidiano, Trump sotto inchiesta, siamo negli Stati Uniti, rischia la fine di Nixon. Qualcuno ricorderà un po' più con gli anni l'impeachment dell'ex presidente degli Stati Uniti, Nixon. E poi a centropagina, precari sempre, il governo li aveva aboliti per evitare il referendum. Ora tornano, si parla dei watcher bis, traditi 3 milioni e 300 mila firme raccolte attraverso un referendum. Andiamo avanti. Il tempo di Roma, la Corte dei Conti e la Raggi, guai sui debiti fuori bilancio, scrive il quotidiano romano. Libero, mortadella vietata ai bambini degli italiani, l'Islam comanda anche a merenda. Le famiglie musulmane non vogliono il panino con l'insaccato perché in puro e in 400 restano a bocca asciutta. Il giornale Italia-Africa scrive il quotidiano vicino alla centrodestra. Cittadinanza facile, primo sin senato allo Ius Soli per 800 mila figli di immigrati. Andiamo avanti. Il mattino di Napoli, intercettazioni basta, abusi. Troviamo un titolo diverso, almeno in questa rassegna stampa di questa mattina. Qui sul mattino il ministro Orlando dice stop a quelle irrilevanti con l'udienza Filtro. Il CSM riforma pronta, se vuole. Gentiloni. E poi vedete, Rogo di Londra si temono 100 morti. E in alto, a destra, vedete qui in spalla questo titolo che riguarda il calcio, da Donnarumma Reina, il balzer dei portieri tristi. La stampa di Torino, clima, Bloomberg sfida Trump, Russia Gate, collaboratori del presidente nel mirino, sull'acciaio, duello fra gli Stati Uniti e l'Europa. E poi vedete a centro pagina, con corredo di foto, in Senato arriva la battaglia sullo Ius Soli. Ma c'è un titolo importante che ritroviamo sulla stampa e che riguarda un lutto, perché è morta Erika, la donna che era stata calpestata in piazza San Carlo, nella serata della partita della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Questa donna non ce l'ha fatta ed è morta in ospedale. Lasciamo la stampa, il secolo XIX, il quotidiano di Genova, che in alto torna sulla tragedia di Londra. Tutta la città in aiuto agli sfollati, Rogo di Londra, strage infinita. La polizia, forse più di 100 morti. E poi Ius Soli, rissa in Senato. E poi a centro pagina, Trump nei guai, il suo staff è nel mirino. La gazzetta del Mezzogiorno, la Lega si slega al Senato. Diritto di cittadinanza ai figli dei rifugiati nati in Italia, rissa in aula. E poi il Sole 24 ore, sì, alla manovra da 3,4 miliardi e definitiva la stretta sull'iva. E poi più in basso si parla di Europa, Grecia, accordo per i nuovi aiuti al paese ellenico. L'ultimo giornale, anzi no, c'è il dubbio che andiamo a leggere per quanto riguarda sempre la prima pagina. Gli appalti irregolari dell'Expo li gestivano i magistrati, clamorose accuse dell'architetto del Comune. E poi vediamo avvenire anche il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Il no più violento e rissa al Senato per la legge sulla cittadinanza, opposizioni anti-ius culturale. Scrive avvenire, Lega scatenata. E poi vedete Trump, in questa foto, Trump indagato, dice il Presidente degli Stati Uniti, contro di me caccia alle streghe. E poi vediamo un altro titolo che non abbiamo ritrovato, non abbiamo visto su altri quotidiani. Armi italiane usate in Yemen, altre in arrivo. Questo è il titolo di avvenire. Il Gazzettino di Venezia, vado in cielo, vi aiuterò da lì. Le ultime parole, strazianti di gloria, la giovane italiana morta nel rogo, nell'incendio del Grattacielo di Londra. Mamma, sto per morire, grazie per quello che avete fatto per me, davvero, come dice il giornale, strazianti parole di questa giovane che non ce l'ha fatta, è tra le vittime di questa tragedia di Londra. E poi vedete politica, Senato, botte e caos sui migranti, il Ministro Fedeli in infermeria. Siamo al quotidiano La Verità, attentati risse, suicidi, bivacchi, l'immigrazione secondo Minniti. Il Ministro invoca il modello Milano e poi, vedete, più in basso si parla di manovra fiscale per quanto riguarda il Governo. Passa, ma manca, già un miliardo. L'ultimo giornale è La Verità per quanto concerne l'edicola nazionale. Noi possiamo tornare a parlare delle questioni di casa nostra. Andiamo a vedere, in questo caso, ripartiamo dal quotidiano Il Centro per andare a vedere quali sono le pagine interne del giornale Oggi Nedicola. Come detto, poi nella seconda parte parleremo anche di sport. In particolare vedremo il servizio curato da Jacopo Forcella per quanto concerne l'ufficializzazione del nuovo allenatore del Teramo, Antonino Astam. Andiamo per ordine, iniziamo dalle pagine del centro. Pagina 2, grandi opere d'Abruzzo, il primo passo sul ponte del futuro. Questo è il titolo che riguarda questa doppia pagina dedicata all'inaugurazione ieri in Pompamagna del ponte Enioflaiano. Il primo passo sul ponte del futuro nella regione in cui c'è molto da fare. Si riparte da Pescara, inaugurazione con Del Rio, oggi alle 15, l'apertura alle auto. E poi in basso, benefici immediati al traffico, lo dice l'assessore alla mobilità civitarese. A chi non piace l'opera, il Movimento 5 Stelle, il deputato Vacca, dice opera faraonica. Nel degrado, e poi c'è il corsivo, vedete, a pagina 3 del centro, il Gran Ballo Excelsior di D'Alfonso. E noi allora andiamo a vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato ieri per il taglio del lastro, per l'inaugurazione del ponte Flaiano. Presenti tra gli altri, ovviamente, il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. Tanti cittadini, ma anche molti bambini, delle scuole pescaresi hanno fatto da contorno questa mattina al battesimo del ponte Flaiano, da parte del Ministro, Graziano Del Rio, che al fianco del Presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso, ha confermato la grande attenzione del Governo nazionale per le infrastrutture regionali. Sì, una bellissima giornata per Pescara, complimenti al Sindaco, al Presidente della Regione, a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto, che unisce due pezzi di città, le rende più belle, più fruibili e anche più sostenibili con le ciclabili, quindi molto bene. Un investimento sulla qualità di vita della nostra città molto importante. Abbiamo lavorato con il Presidente D'Alfonso in maniera molto intensa in questo anno e mezzo, e abbiamo fatto quindi un programma di sviluppo delle infrastrutture, affrontando tutti i nodi, dalla 16 fino alla 17, alla Cività Luparella, e quindi abbiamo messo in fila tutte le robe, compreso lo sviluppo dell'aeroporto, compreso lo sviluppo dei porti. Come ho sempre detto con Luciano, che stimo e apprezzo la nostra programmazione, accompagnata dalle risorse giuste, avrebbe cambiato il volto dell'Abruzzo, e credo che i cantieri che stanno per iniziare, le aggiudicazioni che stiamo per fare, dimostrino che abbiamo seguito la strada giusta, quella di pianificare, di programmare, di mettere le risorse, adesso davvero i cantieri possono partire. Il 23 di giugno, come sa bene il Ministro, apriamo le buste per la Fondo Valle Sangro, 190 milioni di euro più 30 attesi da 40 anni. Io ringrazio molto il Ministro del Rio, Graziano, ringrazio il nuovo corso di Anas e ringrazio anche l'atteggiamento responsabile degli enti locali. Un grande grazie anche a Fiat Sevel, che ha atteso, aspettato, senza abbandonare l'Abruzzo, e adesso dopo 40 anni di aspettativa finalmente ci siamo. Tanta gente, ieri dunque all'inaugurazione del ponte, intitolato a Denio Flaiano, uno dei cittadini più illustri di Pescara. Andiamo avanti, grandi marchi d'Abruzzo, un'altra giornata importante, quella di oggi, perché vengono celebrati gli 80 anni di Saila, l'Iquirizia d'Italia a Silvi, il compleanno della famosa azienda che produce mille tonnellate di caramelle l'anno. Festa da oggi a settembre. Andiamo avanti, vedete poi le pagine che sono dedicate alla Rissa al Senato, ieri l'approvazione dello Ius Soli, Bagarri in Aula, la Fedeli, ministro dell'istruzione in infermeria. Andiamo avanti, dopo aver visto i titoli di carattere nazionale, arriviamo alle pagine relative alla nostra regione. Violenza di genere in Abruzzo, una legge regionale contro l'omofobia, Arcii Gay e le altre associazioni oggi all'incontro in regione, per chiedere regole certe dopo l'aggressione di Pescara. E siamo proprio alle pagine relative alla provincia di Pescara, all'evento dell'estate, l'Aeron Man a Pescara. Anche l'anno prossimo il Comune stacca un assegno da 25 mila euro e offre servizi gratis, viabilità rivoluzionata. Domenica chiude anche l'asse attrezzato e stasera stop al traffico sulla riviera per la corsa amatoriale. E in gara anche i campioni come Fontana, Fabian e soprattutto Alex Zanardi. Andiamo avanti, bollette non pagate, ogni mese acqua tagliata a 400 morosi, l'erogazione viene ridotta dall'ACA per chi non ha pagato per il consumo idrico o non ha rispettato il piano di rateizzazione. E poi la segnalazione di un cittadino, vedete al centro della pagina, niente fatture per mesi, poi un sollecito e una bolletta in 48 ore. E poi settimana corta, c'è l'ok, ma è bufera al liceo classico d'annunzio di Pescara. Il Consiglio d'Istituto approva con due voti di scarto a favore le elezioni. Fino al venerdì i genitori insorgono, traditi dai nostri rappresentanti, faremo ricorso al TAR. E poi cronaca, piazza 4 Novembre, giovane accoltellato a una mano dopo la zuffa per la droga. Proseguiamo, niente ambulanti sul Ponte Flaiano, la protesta dei venditori, abbiamo le licenze e paghiamo le tasse perché ci hanno cacciato via. Questa è la domanda degli ambulanti a cui è stato vietato l'accesso, come leggiamo da questo articolo del centro, sul Neoponte Enio Flaiano. In alto, il Ministro del Rio, ieri dopo aver inaugurato il Ponte, ha partecipato ad una tavola rotonda in comune, il convegno in cui il Ministro ha detto, tra le altre cose, che anche in Abruzzo si può fare impresa. Proseguiamo, la casa del pescatore Mimì Zizi, simbolo dei 90 anni di Pescara, ecco i vincitori del concorso fotografico del Rotarark Club, primo premio a Perticarini, sul podio Pettinelli e Fabrizio. Restiamo a Pescara, allarme dei residenti in Via Ronchi, ramo crolla, troppi alberi dicono a rischio. Poi la Fidas, premi e donatori storici, successo dello spettacolo al Circus, in scena anche i pazienti del centro Igea. Siamo a Montesilvano, commercio e turismo, pochi appuntamenti sul corso, cartellone dell'estate, delusi negozianti, protesta dei ribelli. E poi in Via Riosto, la CGL sollecita l'integrazione dei senegalesi, c'è stato un incontro al comune. E poi, spoltore dopo il voto, il sindaco di Lorito dice voglio un paleventi nell'area dell'Arca. In basso gioco d'azzardo, tassa occulta da 1.500 euro. A tanto ammondano ogni anno le scommesse pro capite a Pescara. Sono stati pubblicati i risultati dell'indagine Stop the Game. Proseguiamo, siamo a Francavilla, piazza Sant'Alfonso aperta e illuminata entro luglio. Il sindaco, Luciani e i commercianti, dice in 15 giorni, cantiere chiuso per due terzi. La viabilità non cambierà e saranno persi dieci posti auto. Torneranno i gazebo. E poi ancora a Francavilla, in dieci giorni un parcheggio sul sito esterno. All'ecomostro proseguiamo. Daico, lavoratori in piazza, a Pescara, i dipendenti temono un ridimensionamento industriale negli stabilimenti di Manopello, Chieti e Colonnella. Più tardi vedremo un servizio. Poi a centropagina, finanziamenti regionali, fondi per 550.000 euro su scuole e Ironman. In basso, Torre dei Passeri prepara l'arrivo di 300 penne nere. Si terrà domenica il raduno provinciale degli Alpini, che coinvolge diversi centri del Pescarese. E poi a Farindola, lingue straniere, in 120 al campo estivo. Siamo alla pagina di Chieti, sempre dal quotidiano Il Centro. Comune di Chieti al Verde, pignoramento show, sindaco senza poltrona. Azione esecutiva per recuperare 90.000 euro dovuti dall'ente ad una co-op. E poi tragedia a San Vito, muore in spiaggia la madre del sindaco di Frisa. E poi a Casalanguida il trattore si ribalta e schiaccia un 65enne, si sente male per il caldo ed esce fuoristrada inutili. I soccorsi per questo 65enne. Siamo alla pagina dell'Aquila, del quotidiano Il Centro. Maxi sequestro da 700.000 euro, evasione fiscale nei guai Danilo Taddei. Poi a centropagina, progetto case, sgomberati altri alloggi. Partita l'operazione di svuotamento da Coppito 2, entro metà luglio. 150 persone lasceranno gli immobili in basso. Auto dei ladri in panne, siamo in questo caso a Celano. Coppia nei guai per questa coppia che è finita nelle maglie della giustizia. Teramo, il simbolo antagonista, Rosci scarcerato, sconterà la pena ai servizi sociali. Accolta la richiesta del militante antifascista, condannato per gli scontri di Roma. Come ha stabilito il Tribunale, aiuterà l'anziano esponente della sinistra, Iacovoni. E poi, inchiesta tangenti, siamo a Giulianova, si decide sui ricorsi degli arrestati. E poi Teramano, condannato per rapina, tre anni per il colpo alle poste di Campovalano. Nel novembre dell'anno scorso, Montorio, passeggiata sul Vomano fino al tempo di Ercole. E poi in basso, invece per quanto riguarda la cronaca, sfonda la saracinesca di un bar e ruba due automobili. Arrestato. E poi incontro al BIM, cyberbullismo, rete per difendere i nostri giovani. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del messaggero dell'inserto Abruzzo e del quotidiano La Città. Lo faremo tra qualche istante. Ora andiamo a vedere le previsioni del tempo. Poi torneremo, come sempre, in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Siamo alle pagine del messaggero, inserto Abruzzo. Vediamo le pagine interne, dopo aver visto nella parte iniziale di questo appuntamento la prima pagina. Si torna a parlare della visita del ministro del Rio a Pescara per l'inaugurazione del Ponte Flaiano. Ferrovia, aeroporto e porto, pressing di D'Alfonso sul del Rio. E poi messa in sicurezza voluta dal governo, si parla del nodo autostrade. Il presidente Armani, presidente dell'ANAS, Gianni Armani, dice che non si può mettere a rischio il bilancio dell'ANAS per poter ottenere qualcos'altro. E poi, cambiando argomento, il professor Francesco Sabatini, cittadino onorario di Introdacqua, cerimonia in occasione della consegna del premio Pascal D'Angelo 2017. Il presidente merito dell'Accademia della Crusca, filologo originario di Pesco Costanzo, è un volto noto, anche un volto noto della TV. E poi la SAI la festeggia agli 80 anni e mette in mostra la sua storia all'orgoglio abruzzese di questa fabbrica che produce la menta, proprio la Sela Menta, che è famosa in tutto il mondo. Questa mattina ci sarà questo importante appuntamento nella fabbrica, nella storica fabbrica di Silvi. Siamo alla pagina di Pescara del messaggero Ponte Flaiano, opera utile e bella. Abbiamo visto il servizio pochi minuti fa. E poi Feniello, sorpresa sul palco, giustizia per Stefano. Il drammatico intervento del papà del ragazzo morto, Enrico Piano, scuote il pubblico e le autorità. Andiamo avanti, siamo alla pagina ancora, una pagina relativa alla cronaca di Pescara dal messaggero. Si parla della saga, perché Mattoscio, presidente della saga, resta sotto inchiesta. L'accusa di presunto falso in bilancio non è archiviata, nonostante la memoria difensiva prodotta dal presidente. I PM Barone e Mantini firmano la proroga nel mirino, i rapporti con Ryanair e il versamento dei fondi regionali. E poi ACA, scontro nel CDA, rischi per la tenuta del concordato. Andiamo avanti, classico sia la settimana corsa. Il Consiglio d'Istituto approva la scelta ed esplode la rabbia dei genitori contrari. E poi a Montesilvano, dopo lo sgombero di Viariostro, i migranti invadono la spiaggia. L'eghista porta il caso in Parlamento. L'interrogazione dell'onorevole Arrigoni al ministro Minniti, dopo lo sgombero, come dicevamo, di Via Ariosto a Montesilvano. Siamo all'Aquila, faccia a faccia prima del voto. Scontro aperto tra Biondi e Di Benedetto. Vivace scambio di battute sui confronti di Deramo. A paura, andremo noi ai suoi. Di Benedetto ironizza, sono timoroso. Misur class nell'eloquio e nell'estetica. E poi, Pezzo Pane nega i mal di pancia. C'è una squadra, ovviamente si parla del centro-sinistra. Nel centro-destra, nuova diretta video dal cimitero distrutto. L'attacco PD difende la lobby del mattone. In basso, presunto furto della reliquia chiesta l'audizione del Vescovo e poi processo a Guarino. Tensione in aula. Valentini dice, non sarò mai sereno. Il carabiniere racconta versioni opposte. Leggiamo qui in questo risvolto dell'articolo del messaggero. E poi, ancora all'Aquila. La città in marcia per la legalità con le fiamme gialle. Alla vigilia della visita del Presidente della Repubblica, Mattarella, il capoluogo si onora di essere entrato nella guardia di finanza dal pensatore Tommaso Moro al giuramento sul Prato Verde della Basilica di Collemaggio. E poi i gioielli perché in via Bominaco torna a risplendere casa di Jacopo di Notar Nanni. E poi la cronaca. Ci spostiamo in alto sangro, schianto, con l'auto muore operaio Lazzaro Diana, 55 anni, carpentiere di una ditta di Barrea, perde la vita lungo la statale 83 sul piano delle 5 miglia. La vettura con cui stava andando a lavorare in un cantiere è finita contro un albero poco prima del bivio di Villa Scontrone. E poi a Celano furto, antidormi di nuovo arrestato. E poi ad Avezzano intascava parcelle senza andare alle udienze. Condannato. Andiamo ancora avanti. Comunali di Avezzano, l'Udc dice fino alla fine. Con Di Pangrazio e poi a Prato la Peligna, la neoeletta sindaco di Nino vara la nuova giunta. A Sulmona sulla biblioteca mi rivolgerò al prefetto. La regione nega le carte alla consigliera di Forza Italia, Elisabetta Bianchi. E poi ad Avezzano la Croce Rossa assume 20 giovani. Lasciamo la pagina relativa alla Marsica e alla Valle Peligna. Ci spostiamo alla pagina di Chieti del messaggero. Operai Daico sale la rabbia. Un sit-in ieri in Viale Bovio, dinanzi alla sede della regione. In 300 manifestano. Lolli, il vicepresidente della regione Abruzzo, incontra una rappresentanza di lavoratori e sindacalisti. E ora dice basta giochetti, preoccupazione per mancati investimenti e gli improvvisi trasferimenti di dipendenti. Noi eravamo presenti ieri con le nostre telecamere proprio per questo sit-in degli operai, dei dipendenti della Daico. Andiamo a vedere il servizio. Vicepresidente Lolli, questa mattina c'è questa protesta, questo sit-in dei lavoratori della Daico, qui dinanzi alla regione di Pescara. Lei ha incontrato una delegazione anche di sindacalisti. Cosa chiedono questi lavoratori? Ma qui siamo di fronte a una vicenda che non nasce oggi. Noi abbiamo già da tempo seguito insieme alle organizzazioni sindacali e all'RSU questa vicenda della Daico. Parliamo delle aziende più importanti, un vero gioiello del nostro territorio, che ha diversi stabilimenti, a Manoppello, a Chiedi, ma anche a Chiediscalo, ma anche a Colonnella. Ed è un'azienda che in questo momento ha una produzione intensa, realizza utili, quindi dovremmo stare tranquilli. In realtà non stiamo tranquilli, non stiamo tranquilli perché guardiamo un po' il futuro di questa azienda. E siamo molto preoccupati dal fatto che un'azienda che opera nel settore dell'automotive, con produzioni importanti, non ci garantisce sul futuro, non ci presenta un piano industriale credibile. Non sta investendo in ricerca e sviluppo e piuttosto sta facendo una serie di atti che sembrerebbero andare in direzione di indebolire piuttosto che di rafforzare. Noi l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto vari incontri, abbiamo anche firmato con le organizzazioni sindacali e l'azienda un protocollo presso la Regione. Protocollo nel quale l'azienda si impegnava, qualunque tipo di eventuale iniziativa, di comunicarla al sindacale. Il problema principale è che l'azienda sta mettendo in campo alcune operazioni senza contrattarle con noi sindacato, che siamo stati sempre disponibili nel corso degli anni a trovare soluzioni anche a situazioni più difficili. Quindi questo cambiamento di rotta e questo cambiamento di atteggiamento ci ha portato a manifestare. E più alcune operazioni di smandellamento su R&D e qualità ci porta a cominciare ad avere qualche campanello d'allarme. Non ci sono stati però licenziamenti? Ci sono stati spostamenti, quindi non sono licenziamenti veri e propri, però quando tu indebolisci dei reparti, cioè togli delle mansioni, indebolisci giustamente, sono sempre degli esuberi, perché se togli due persone, una sala prototipi, hai creato due esuberi. Questo è il servizio sulla manifestazione ieri su questo sit-in di protesta dei dipendenti, degli operai della Daico, dinanzi la sede della regione a Pescara. Andiamo avanti, restiamo sempre sulla pagina di Chieti del messaggero. Debito con la cooperativa presa alla poltrona del sindaco. Pignoramento in comune per 85 mila euro di primio, il primo cittadino dice una sceneggiata napoletana. E poi in migliaia secco allo scalo l'ipotesi del nuovo serbatoio. E poi invece per quanto concerne gli eventi, riapre lo stellario di Chieti con la manifestazione Signature. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona, titolo d'apertura che ci porta a Lanciano. Il PM Vecchi trasferita, rischio attentato, il sostituto procuratore a Pescara su decisione del CSM. Le indagini è finita nel mirino di una banda di malavitosi. Il magistrato sottoscorta, dopo inquietanti intercettazioni, i sequestri di pericolosi esplosivi, confermano i timori. E poi a Crecchio, i cani abbaiono troppo, il giudice li fa sequestrare di spalla. Andiamo ad Ortona, verso il ballottaggio, l'esploit delle civiche ha stravolto la politica cittadina. Perché centrodestra e centrosinistra sono usciti sconfitti dal primo turno. Perché al ballottaggio vanno due esponenti, Leo Castiglione e Giorgio Marcheggiano, che sono appoggiati da liste civiche. Ancora vediamo due titoli di cronaca in breve. Il primo riguarda un malore con una morte in spiaggia a San Vito Marina. E' accaduto ieri, non c'era fatta la madre del sindaco di Frisa, Rocco Di Battista. E poi a Casalanguida perde la vita, 65 anni, mentre guida il trattore. Andiamo avanti, lasciamo le pagine di Chieti e Chieti Provincia. Ci spostiamo a Teramo, dove si parla di politica. I democratici perdono i pezzi. Via d'Alberto e altri quattro. L'obiettivo è formare un nuovo gruppo in consiglio, in vista delle amministrative. Escono dal partito anche De Sanctis, Filipponi, Di Timoteo e Santoni. Vedremo tra poco il servizio. Poi si parla dell'acqua, osservatorio dice troppe inefficienze. Nel 2011 la Regione ha perso un anno per la convocazione di una commissione che riguardava la potabilità. Roseto, emergenza territoriale avanzato e approvato posto nelle Casa Rosa. E poi rapino all'ufficio postale, condannato a tre anni. Siamo alla pagina del litorale di Teramo, della provincia. Siamo a Giulianova, Lido delle Palme, no al dissequestro. E poi elezioni in Val Vibrata, nessun rapparentamento. Camaioni si tira fuori, Albadriati, Caponte del Torrente Vibrata, verso il completamento. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo andare a vedere però le pagine interne del quotidiano La Città. e poi ci concentreremo, come detto, sullo sport. Ma dobbiamo vedere quali sono i titoli, gli argomenti principali trattati nel quotidiano La Città che troverete oggi in Edicola. Ancora qualche istante andiamo a visualizzare sul nostro iPad, dopo aver letto la prima pagina, le pagine interne del quotidiano Oggi in Edicola. Passiamo a pagina 3, Abruzzo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia semina il panico con un falso terremoto. Sul sito compare per errore un sisma di magnitudo 5,1 nell'entroterra marchigiano mai avvenuto. E poi vediamo anche gli altri titoli di pagina 3 del quotidiano La Città. Internet veloce in sette comuni. Terramani arriva la fibra ottica. Poi centropagina ricostruzione. Luciano D'Alfonso incontra i vertici del lancio Abruzzo. In basso c'è l'articolo dedicato all'inaugurazione di Ponte Flaiano alla presenza del ministro del Rio. Democratici a pezzi. D'Alberto lascia il PD e ne porta via altri due. L'ex capogruppo abbandona il partito assieme alla De Santis e alla Di Timoteo. Nascerà un nuovo gruppo. In basso, gruppo PD dimezzato. Un brutto colpo alle ambizioni di Mariani. E noi andiamo a fare il punto della situazione in casa del Partito Democratico nel servizio curato da Tania Bonnici Castelli. Terremoto nel PD Terramano. Il capogruppo al Comune, Gianguido D'Alberto, annuncia la fuoriuscita dal Partito Democratico insieme ad altri due consiglieri comunali, Francesca Di Timoteo e Ilaria De Santis. Sostenuti anche dai due rappresentanti della lista civica Teramo Cambia e da associazioni cittadine, i fuoriusciti annunciano la nascita di un nuovo progetto politico per liberare la città di Teramo da brucchi. Perché fuori dal PD? Sì, quella che abbiamo fatto come consiglieri comunali, tre consiglieri comunali del gruppo PD. La decisione di uscire dal gruppo fa seguito alla decisione di qualche giorno fa delle dimissioni da capogruppo in Consiglio Comunale per una situazione, per quanto mi riguarda, di incompatibilità con lo stato attuale e la situazione del PD Terramano. Non riesco più a sentirmi rappresentato da questo partito e a rappresentarlo, soprattutto nei metodi di fare politica, perché comunque registriamo e notiamo una spaccatura forte, una logica tutta correntizia e di conservazione e lotta di potere fra gruppi e correnti che è legata solo a destini individuali, dei singoli e di gruppi, rispetto ai quali se sei fuori da questo sistema non riesci comunque a dire le cose che pensi, che credi politicamente e questo è quello che mi riguarda, perché se io quotidianamente mi oppongo e mi contrappongo al sindaco brucchi e a questo centrodestra Terramano nel dire che è inaccettabile questa gestione del potere, questa lotta di poltrone, questa corsa solo e esclusivamente ai destini individuali dei leader politici e di fatto diventa non credibile questa azione perché spesso nel Partito Democratico, nel Partito Democratico Terramano si riproduce lo stesso schema, ovviamente questo rende non credibile la nostra azione politica. Gian Guido D'Alberto, stimato e ben voluto, era da tempo la figura di riferimento per il PD Terramano come futuro candidato sindaco pur nel rispetto della regola delle primarie. La cosa che stupisce è che i vertici del Partito Democratico non abbiano fatto nulla per arginare questi addi. E' stato contattato dagli organi del partito dopo la sua fuoriuscita? Se parliamo degli organi di vertice, quindi le segreterie provinciali, regionali, Presidente della Regione, no. Quindi evidentemente non c'era questa grossa... non c'era la concezione di quello che... la situazione del PD Terramano che invito seriamente e mi auguro possa fare una riflessione. Noi oggi partiamo con questo gruppo che vuole essere comunque una base di partenza per un progetto nuovo, aperto alla città, che voglia cambiare nei metodi, nel metodo di fare politica, il rapporto appunto tra politica, istituzioni e città. Perché questa città, io lo ripeto sempre, non ha bisogno di un altro gruppo di potere che si sostituisca ad un altro. Questa città va liberata e noi ci opporremo a qualsiasi operazione che abbia questo fine, anche qualora dovesse assumere dei contorni gattopardeschi. Andiamo avanti, sempre dalle pagine del quotidiano La Città. In ballo la presidenza della Terramo Ambiente. La poltrona di Via Delfico entra nella partita per la nuova giunta. E poi in basso a Campri, perforatrice, si ribalta a Morge. Operatore Salvo, grazie ai suoi riflessi. Vigili del fuoco hanno poi risollevato la trivella. L'antifa Davide Rosci è uscito dal carcere, l'attivista lasciato Castronio dopo 1884 giorni di detenzione. Torno ad essere un uomo libero. E poi anche l'Interamnia deve adeguarsi alle nuove norme, le misure del Ministero dell'Interno. E poi in basso si parla di viabilità, i fondi della funivia a disposizione per il nuovo ponte di Carapollo. Il tour nei laboratori sarebbe piaciuto anche a noi. L'osservatorio sulle acque, dopo la visita dei sindaci, rilancia l'incontro dibattito di sabato. Campri cronaca, seconda condanna per la rapina alle poste. Andiamo ancora avanti. Ingorgo sui tributi dopo il sisma, l'ordine dei commercialisti protesta e dice dai comuni nessuna informazione. E poi è arrestato un 45enne ladro seriale di autovetture. Proseguiamo. Arriviamo alla pagina relativa alla Val Vibrata. Partendo da Nereto, l'opposizione chiede al prefetto di sciogliere il consiglio comunale. Eventi. Giorgio Colangeli, ospite a Civitella del Tronto per recitare i versi di Dante. Martinsicuro e scontro, si parla di politica, sui presunti accordi sotto banco. La foglia accusa il sindaco Camaglioni che replica sono solo falsità. In basso si parla di lavoro. Con la protesta ieri a Pescara abbiamo visto poco fa il servizio dei dipendenti della Daico per chiedere certezze sul futuro, sul nuovo piano industriale. Siamo alla pagina di Giulianova. I rifiuti giuliesi negli impianti di Dizio. Comune costretto a rivolgersi al privato per la chiusura del CIRSU. E poi operazione Castrum. Il riesame prende tempo per decidere sulla scarcerazione degli arrestati. In basso. Questione ospedale. Avanti la battaglia del sindaco Mastromauro. Dopo l'allarme accorpamenti. L'atto aziendale della ASL in conferenza dei sindaci. E poi la cronaca. Giulianova muore a 85 anni mentre porta a passeggio il cane. Pagina di Roseto. In questo caso una centrale del 118. Anche a Roseto approvata la concessione in comodato d'uso dello stabile. In via Fonte dell'Olmo. E la croce rossa di Roseto degli Abruzzi dona un parco giochi ai terremotati. Ancora Roseto. Adriano De Luca non partecipa per protesta. Al consigliere di maggioranza con delega non è andato giù il mancato coinvolgimento. Nelle scelte del sindaco. In basso a Pineto proseguono i lavori di sistemazione dei canali di Scerne. Ancora Pineto. Incendio in Pineta. Ma è una esercitazione. In questo caso impegnati vigili del fuoco. un elicottero, capitaneria, municipale, carabinieri 118 e protezione civile. E poi la chiusura del Duomo di Atri scatta l'allarme. Turismo religioso a forte rischio. E poi in basso, sempre tornando in questo caso a Pineto, il gruppo consigliare impegno civico torna all'attacco sulla situazione che si ripete ogni anno sulle spiagge di Pineto. Amministrazione immobile, dicono, di fronte all'invasione dei commercianti abusivi. Pagina della cultura. Il turismo web ve lo spieghiamo noi in viaggio con un click con gli studenti dell'Università di Teramo. Autori proprio su questo argomento di un libro. E poi estate educale. Atricap. Weekend intenso. Aspettando Marco Travaglio e Gabriele Cirilli. Arriviamo così alla pagina dello sport, l'errativa al Teramo. Perché quella di ieri è stata la giornata della fumata bianca, Asta Teramo. L'arrivo del tecnico è ufficiale. Il diavolo ha trovato il suo nuovo allenatore. Accelerazione decisiva nell'incontro romano di ieri mattina. E allora possiamo andare a vedere subito il servizio curato da Jacopo Forcella. Antonino Asta è il nuovo allenatore del Teramo. Adesso c'è anche l'ufficialità arrivata dopo l'incontro di questa mattina tra la dirigenza biancorossa e il tecnico originario di Alcamo che ha siglato un contratto con il club presieduto da Luciano Campitelli. Un'accelerata improvvisa, quella per l'allenatore e un accordo raggiunto nell'incontro romano. Era evidente che dopo l'ufficializzazione del nuovo direttore sportivo, Giorgio Repetto, per il diavolo non c'era più tempo da perdere. E così è arrivata subito la fumata bianca. D'altronde Asta è sempre stata la prima scelta del sodalizio Teramano. Lui aveva già in più di una circostanza fatto sapere di gradire la destinazione che vuol dire rilancio dopo una stagione in chiaro scuro in Lombardia. Dunque tutto fatto. Si riparte da Asta dunque dopo un'annata che ha visto tanti allenatori alternarsi con diverse fortune sulla panchina del Teramo. E da domani dunque inizierà davvero il nuovo corso ma anche la possibilità di valutare tecnicamente la rosa a seconda delle esigenze del nuovo allenatore che predirige un modulo 4 e 3. Ci sarà da capire quanti e quali elementi faranno ancora parte di un organico che per il momento vede molti giocatori sotto contratto e che probabilmente non rientrano più nei piani tattici del diavolo che dovrà anche abbassare drasticamente sia il montengaggi che l'età anagrafica probabile che una mano venga da quei giovani prospetti di scuola pescara che hanno già maturato una discreta esperienza in Lega Pro e che sarebbero pronti a sposare il nuovo progetto Teramo. Ventola e Politori sono due nomi che potrebbero fare al caso del club biancorosso la cui vera sfida sarà quella di rilanciare grazie al nuovo allenatore una squadra che dovrà avere una base solida per poter programmare un futuro più stabile. Dunque in bocca al lupo ad Antonino Asta per questa nuova avventura in biancorosso noi siamo già entrati ovviamente con questo servizio nell'ultima parte di mattino 6 dedicata allo sport andiamo a vedere anche i titoli dei tre quotidiani sportivi oggi ne dico, la partiamo dalla gazzetta dello sport Topo Gigio si parla ovviamente della vicenda Milan-Donna Rum oggi Raiola a casa Milan il portiere dentro o fuori il club vuole blindare il suo gioiello con una super clausola ma la gente è pronto a rompere in alto si parla di Inter Spalletti fa il mago e cita Herrera dà la carica a tutto l'ambiente Inter devi fidarti di me di Spalla si parla di Uwe la rivelazione di Allegri che dice dopo Cardiff volevo mollare e poi andiamo in Inghilterra perché Conte e Chelsea il grande gelo tra SMS e mercato prima pagina del Corriere dello Sport alta infedeltà Donnarumma rifiuta il rinnovo con il Milan altro che bandiera Raiola e il portiere dicono no a 5 milioni per stagione Fassone, dirigente rosso-nero risponde, decisione presa dal giocatore che ci amareggia il Real già pronto a inserirsi ma il club per ora non vuole trattare i tifosi milanisti infuriati con Gigio chiudiamo con tutto sport chi offre di più Gigio rompe con il Milan e dunque si scatena l'asta per il portiere del Milan lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola e andiamo a vedere le questioni sportive di casa nostra partendo dal Pescara e dal futuro del capitano si tratta di Ledian Memushai resto a Pescara decidono il club e il tecnico la mezzara bianca azzurra dice ho altri 4 anni di contratto e qui mi trovo bene non sarà un problema giocare in Bima quanti rimpianti per la retrocessione dunque atto di fedeltà bisogna dirlo del giocatore albanese nei confronti del Pescara da cui è legato oltre che da 4 anni di contratto evidentemente anche da un grande affetto in alto mercato Nicastro verso il Sassuolo arriva Palazzi a breve si chiuderà per Gans e poi ancora Serie B il pescarese di Matteo potrebbe finire al Carpi Lavellino va su Pinamonti siamo alla pagina della Lega Pro il Teramo chiede ad asta la stagione del rilancio abbiamo appena visto il servizio Asta è il nuovo allenatore della formazione Bianco-Rossa e poi Serie D parla il presidente dell'Avezzano Paris che dice Avezzano playoff vado via il padrone marsicano presenta l'allenatore marino la vastese vuole bontà e poi ancora calcio calcio dilettantistico regionale perché la sulmonese Ofena si trasforma in sulmona calcio in basso basket di Serie B questa sera l'annuncio Amatori Raiola con l'ex ormai ex giocatore Bianco-Rosso che diventerà il nuovo allenatore della formazione pescarese e poi trofeo Montefiore pesca sportiva la vittoria va alla coppia Quartiglia Antonelli e poi parlando di beach volley al torneo tre stelle dell'AIA in Olanda partono bene Nicolai e Lupo andiamo ancora avanti calcio a 5 Pescara orgoglio e sconto per rilanciare la sfida club soddisfatto per la dimostrazione d'affetto dei 1500 tifosi presenti ad Ancona ridimensionate le squalifiche ai giocatori Coco Wellington va all'acqua e sapone dunque è stata ridotta la squalifica ai giocatori del Pescara e questa è sicuramente una buona notizia per la formazione del presidente Danilo Iannascoli e poi calcio dilettantistico Coppa Abruzzo Acqua e Sapone sugli scudi ultima pagina di sport dal centro Palla a nuoto Pescara chiama a raccolta i tifosi per il salto in Serie A2 sabato 24 giugno la sfida decisiva contro Messina la nazionale di campagna tornerà alle Naia di A novembre e poi Beach Soccer si parla del campionato di Serie A lavastese a Firenze per dare sostanza al Soglionato nel 2014 in basso si parla di atletica con gli assoluti della categoria allievi abruzzesi carichi di speranze da oggi a Rieti sono attesi all'opera in particolare Pucca Cirotti di Primio Latino e Zuccarini siamo alle pagine dello sport prima di salutarci del messaggero iniziamo con la prima pagina che forza i miei ragazzi parla l'ex tecnico della primavera del Pescara oggi ad Ascoli c'è Teo Di Mascio che dice che forza appunto i miei ragazzi grosso a qualità intelligenza farà bene anche in Serie B Oddo è uno fuoriclasse lo ha dimostrato anche Sarri e Giampaolo hanno avuto momenti bui ma sono arrivati intanto il mercato è fatto anche per Palazzi ora si punta su Bastoni Gilardino il bomber del Pescara sfortunata la sua stagione con la formazione Bianca Azzurra può firmare con la Cremonese in basso anche sul messaggero si parla ovviamente della firma del nuovo allenatore del Terro che sarà Antonino Asta Pescara nuovi veleni dopo la finale persa Ian Nascoli dice l'unica vera sconfitta è stata la federazione risultato deciso da una ricostruzione fasulla dei fatti in gara 1 squalifica commutata al campo di gioco sconto anche per Caputo e Borruto che potranno giocare in Europa Futsal Cup e dunque diciamo che la maxi squalifica è stata attenuata ma resta la delusione per aver mancato la conquista del Tricolore anche a causa lo dice anche qui il presidente Ian Nascoli di quanto accaduto al termine di gara 1 e poi la serie D l'Aquila serve una soluzione rapida mentre per l'Avezzano Marino si presenta voglio solo gente che lotta e poi nuoto la staffetta della verde acqua campione d'Italia di salvamento in basso invece si parla di palla nuoto l'Italia di campagna supera il Giappone all'Enaia di spettacolo in basche sugli spalti perché c'è stata questa amichevole tra le nazionali di Italia e Giappone con un grande successo di pubblico l'Italia che sta svolgendo uno stage di allenamenti un collegiale alle piscine l'Enaia di pochi giorni fa c'era stata anche la cena per il trentennale della Silzei Pescara che aveva vinto davvero tutto in campo nazionale ed internazionale in quella fantastica stagione del 1987 con in vasca Manele Stiarte il Maradona della palla nuoto e a dirigere il tutto Gabriele Pomiglio lo storico dirigente della palla nuoto pescarese scomparso poche settimane fa e parliamo ancora di palla nuoto perché Pescara per la 2 serve un altro sforzo per il club acquatico invece una retrocessione amara siamo così con le pagine del messaggero giunti alla termine dell'appuntamento di oggi di venerdì 16 giugno con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io invece vi rimando come sempre agli appuntamenti del nostro telegiornale all'edizione delle 14 e poi a quelle delle 19 e delle 23 grazie a Claudio Di Giacomo in regia grazie a voi per averci seguito dalla nostra redazione l'augurio di una serena giornata grazie a tutti Grazie a tutti.